ok dovremmo esserci dovremmo essere online live ciao a tutti vediamo la chat perfetto dovremmo essere a posto benissimo 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 ciao a tutti quelli che si connetteranno insomma questa è la mia ranga alternativa con il mod controlliamo bene dove siamo a sa già è vero eravamo al coso eravamo alla playroom che c'è qua andiamo valkyrie se parla sicuramente farà parte della mod valkyrie qua ora la volta scorsa noi eravamo ci eravamo fatti macinare macinare questo crema lavata cose no 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 non voglio ma porca miseria vestito crema lavato dov'è il vestito crema lavato che cosa che era vestito crema lavato vestito del prigioniero fortuna 1 vabbè questo ce lo teniamo il limite vestito crema lavato carisma 2 buono però lo teniamo qua abbiamo già il nostro cosetto questo vestito il figlio del figlio dell'atomo se frega maschera tigrass blu dress blu dress carisma però abbiamo anche l'autocondustrini quindi blu dress ora la volta scorsa stavamo tentando di fare una quest che è questa vediamo qua come che siamo dati rodile che ci avevano dato al night club ma ci hanno macinato praticamente ora intorno alla biblioteca pubblica di common di boston è pieno di figli dell'atomo incattati come delle panterre ci hanno macinato sono dovuto scappare ho anche perso ho anche perso uno degli uno dei compagni anche l'inventario abbiamo contro cos'è tutta questa roba vediamo bene queste si possono mettere il fucile da caccia non è neanche male questo ce lo teniamo ce lo dobbiamo andare a modificare un minimo a fargli fare un pelino più di danno però corto fucile da la ricchiaccia se ce lo teniamo ce lo modifichiamo di un mio vestiario le mie provviste acqua sporchia le mandano di settante birra bistecchi di stessi di bocconcini bocconcini barbo barbo lo mettiamo a giocare nel cram carota ci siamo in scatola ma che carota ce la prendiamo? il limite può fare comodo vestire in chiaro per far frutto un dato qui le stout la nostra mash questo ce ne interessa ma c'è il cheese di blanco il forno tutta questa microcola ma quanto ma quando ce la teniamo? papatine ancora un'istantanza con il sangue sugar bombs vino guacchia il cielo ce lo teniamo va bene insomma in poche parole noi stavamo facendo quella quest ci hanno macinato molto probabilmente un po' troppo un po' troppo oltre il mio livello che alla fin fine il mio livello poi statistiche sono livello 13 non è poi così alto eh quindi non è vediamo vediamo cosa fare tra le varie dovrei avere tra le varie dovrei avere dati uno dei inventario per visti varie dovrei avere ho la nastro non ce l'ho insomma alla fine ho semplicemente ho semplicemente piper e un'altra della vediamo lei ok dove mi chiedi ok let's trade ok lei dovrebbe avere un olo nastro eh c'è la diffusione si non c'è la diffusione varie teleport depravity companion to you me lo prendo ok ho la nastro qua entro nothing else i need all right tab varie teleport privity companion eh beh ce l'avevo già ok va bene Harley to you press play teleport Harley to you enter in view ok dovremmo essere a posto auto salvataggio vediamo se ok Harley hey what's new what's new let's trade we need to swap some gear you always get your way ok ok allora lei aveva parecchie cose allora andiamo a prenderci i materiali e poi diciamole di seguirci perché l'avevo persa non so perché varie beh forcine stimpar ce lo prendiamo chiamolo no va bene va bene travel together ok non so perché l'avevo persa ce l'ho di nuovo come companion quindi ho piper e Harley ed ed perfetto ora a me non conviene fare quella missione lì eh perché alla fine immaginano a meno che non provo in stealth di notte potrei anche provare in stealth di notte dormi sono no è già notte quindi possiamo riprovare a farla eh possiamo riprovare a farla però mi hanno macinato quindi vediamo se riusciamo ok facciamoci un salvataggio come si deve adesso questo e poi usciamo sulle spalle e devo andare a recuperare il coso delle armi una una insomma il deposito delle armi dei figli dell'atomo ma ce ne sono tanti ne hanno macinato la volta scorsa e continuavano ad uscire ora vediamo se riusciamo a fare una cosa delle cose un pochino stealth eh anche se secondo me prendendo Harley Harley ha uno stile di gioco molto aggressive molto aggressive in poche parole controlliamo si dovrebbe essere abilitato si abilitato quindi Harley molto aggressive inizia a sparare subito quindi allora metto la ora vediamo bene la mappa qui fuori all'esterno mappa noi vedete allora adesso noi ce ne andiamo verso la biblioteca e iniziamo a cecchinare quindi 5 dovrebbe essere lui perché richiamano iniziamo a cecchina come si deve e c'è il gas lago però non mi interessa veramente niente devo per forza andare fino la ma fatemi vedere bene ma come si è messi qua no mi conveniva andare dall'altra parte mi conveniva andare dall'altra parte via ok andiamo e cecchiniamo come si deve guardate lì che che caos che mi ha che c'è ancora cosa che brucia ok salire su e cecchinare dall'alto ho il modo dovrei avere forse il modo di andare su e cecchinare dall'alto quindi proviamoci ci proviamo riesco a salire ok forse riesco ad andare su non mi sembra non mi sembra che questa sia la strada giusta per andare su no no molto probabilmente non ho modo qua di cecchinare dall'alto eh vabbè non troviamo se qualcosa di interessante qui in giro non ho modo di salire da sopra peccato ma mi sembrava che ci fosse qua possiamo provare a vedere no 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 niente va bene proviamo nuovamente il però no non sono convinto di arrivarci in questo modo se ci arrivo di qua non è un gran che bello andiamoci dall'altra parte fermi tutte inventario ciò cosa ho di silenziato qua armi allora prendiamoci il nostro fucile coltello discepolo il coltello maledizione non riesco a passare qua no porca miseria e adesso sono bloccato da arle ok ora di la è inutile andarci mi immagino vediamo bene a che punto siamo mappa si vado di qua e vengo da questa parte forse meglio quindi per r veniamo qua molotov c'è la diffusione munizioni tappo ma questo chissà grande buffe gratuito devo girare dall'altra parte e qua dovrei avere la biblioteca pubblica di Boston no la biblioteca ce l'ho allora andiamo da quest'altra parte qua se ce la facciamo è l'unico? si ok andiamo e vattene via e vattene via passiamo a questo golferale golferale putrido golferale vagabondo atom scavenger molotov munizioni tappo tappo pacchetto di sigarette si può prendere ok ok controlliamo se stiamo andando bene ok andiamocene di qua nessuna intenzione di andare sotto controlliamo di qua oh che miseria via via di qua ok 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 sono proprio tanti se si radunano si radunano diventa parecchio un caos ragazzi eh stanno venendo di qua andiamocene giù andiamo 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 facciamo facciamo un salvataggino qua testo nade testo nade sono molto cioè non pensavo che c'è chi nando lì in testa o ho sbagliato ho sbagliato io la mira oppure qua da qua ma sono molto duri da prendere eh sono molto duri da prendere eh cos'è stato? si sono molto duri da prendere questi eh molto duri da prendere vediamo quale arma ho inventario fucile da caccia no laser fucile parabina da combattimento fa 43 33 65 fucile da combattimento però è distanza ridotta la fa 37 43 ok c'è nessuno? li troveremo li troveremo li troveremo vediamo ce ne viene lì via andiamo ce ne viene via forse da qui sopra lì sopra dovrei riuscire a andarci eh essere proprio proprio sinceri eh vediamo vediamo se ci arrivo qua no nessuna parte ci arrivo non si va di qua ok riproviamoci ok 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 uno l'ho fatto fuori via 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 e uno l'ho fatto fuori bene bene dai 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 che ci siamo dai 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 si trovati un bel niente ok e quei due li abbiamo fatti fuori eh qui due li abbiamo fatti fuori uno è la e uno è qua saldiamolo là saldiamolo qua evidentemente sono un po' cioè il mio livello è troppo basso c'è la fusione emozioni laser tappo il resto ok controlliamo c'è un altro vediamo eh blu non ci siamo solo noi si lo so lo so anche te lo so benissimo che non ci siamo solo noi questa la prendiamo eh blu non ci siamo solo noi non ci siamo solo noi lo so benissimo che non ci siamo solo noi però domanda tipo che sono così circospetto piper ok ok a meno che non non rispondano non ci siamo solo noi non ci siamo solo noi qui non ci siamo solo noi dove dove sarà meglio dove sarà meglio ok dovrei aver fatto fuori quelli da questa parte vediamo 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 se li possiamo lootare dovremmo iniziare a vedere corpi qui eh dovremmo iniziare a vedere corpi qui in zona eh e non trovo corpi perché non trovo corpi perché non trovo corpi chi è beh là un corpo c'è salviamo vediamo questo anche no un'altra volta ok qua iniziamo ad avere corpi eh chi sarebbe questo molotto c'è la diffusione munizioni tappo che no aspetta bene ottimi ottimizzato il mio com'è 38 questo 38 ma anche eh vabbè prendiamolo vedremo di farci qualcosa di molto chiarino eh cosa è stato si sta curando si sta curando si sta curando maledetto si sta curando dai dai venite via fatelo calmare su attenzione attenzione dai fatelo calmare fatelo calmare cercate cercate l'eretico eliminate l'eretico si ok ho capito ho capito non ce ne abbiamo non lo so fuggire ecco dov'è non ci siamo solo noi si ho visto che non ci siamo solo noi dov'è in non ciò luigi si puoi nasconderti da un vero critico c'è un lancio missili, hanno un lancio missili, ho capito, due, quattro, sono quattro questi, sono quattro questi, devo far fuori uno per uno, arrenditi e l'atomo potrebbe dimostrarsi che siamo in combattimento, l'ho sentito, via, 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 porca miseria, sono venuto dove non dovevo venire, ok, sono tutti qua, maledizione, devo scappare dall'altra parte, allora, vediamo bene, provviste, 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 allora, Psycho Jet, via, 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 via cerchiamo, 5, vediamo se riusciamo a cecchinare un qualcuno, se riusciamo a cecchinare un qualcuno, siamo tutte la voce, non si vede nessuno, perfetto, ok, qua c'è Piper, le altre, perfetto, come vedete sono tanti, proprio tanti tanti tanti, sono tanti tanti tanti, allora, ok, abbiamo visto che da questa parte sono in troppi tutti assieme, quindi proviamo andare nell'altro modo, ok, da questa parte sono in troppi, e salviamoci qua, non c'è nessuno, perfetto, non riesco a salire in qualche edificio, ok, veniamo di qua, forse di qua si riesce a salire, no, lasciamo salire in qualche modo, macchia e mai, macchia e mai, di qua non si sale, hanno scelto proprio bene, eh, il posto, quel di Dello, vieni qua, via 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 sono proprio tanti se c'è fatto caso sono in tanti salire lì non ci riesco poi di qua non faccio niente ingannatore l'atomo ti svelerà l'atomo ti svelerà non vai a chiegare l'atomo ti svelerà non riesco ad andare in nessun posto in alto valedizione eh ok continuiamo qua sono proprio oltretutto sono intorno a cosa? sono intorno a ok allora facciamo una cosina simpatica visto che siamo qua al distretto di polizia eh così per capire no? ok allora qua o respon- no o questi responano o questi responano oppure motos c'è la diffusione munizioni guarda voi il tappo adesso è roba nostra ok ok prendiamolo dai via ci siamo questo è buff out andiamo non c'è il computer dovrebbe essere qua ok vabbè questo qua lo so io per chiaro credo fosse usato come bidone della spazzatura no lo scriva lo lasciamo andare lo guarda è levato da chi? da lo scriva? vediamo questo munizioni ok chi impact up non lo scriva chi ha? quello era già stato completamente ok facciamo così salvataggino bug bay e ci siamo chi se ne frega della pastura lavandini è possibile che non riesca a salire su questi sarebbe un'ottima impostazione ok ce l'ho di là seguire ok allora vediamoci adesso da qua vediamoci adesso da qua vediamo 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 Chi è? Chi è? Chi è? Io adesso posso prendere, che pazzo dà, che fai? Per me ho i nemici vicini, quindi di qua non so fare niente. Sì, un attimo c'è mia moglie che mi chiede cosa. Ok, eccoci qua. Non riesco ad entrare qua? Eh, ma, 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 fatemi passare. È possibile che non ci sia nessuno? Sono tutti fuori? No dai, non può esserci. Ok. Ok. Lo sta scegliere. Andà. Sei tu! Ok. Ce n'è uno lì dentro, eh. Anche più di uno, magari. Ok. Ok. E salviamo. Salva. Se ce la facciamo. Ok. E salviamo. Non sa che aggettore. Andiamo a prendere. Funzioni. Ciao. Tattos. Forcina. E c'è sempre. Sento. Che cosa sento? Chi va là? Ce n'è uno solo. Sento forse i sussurri dello splendore. Sì, senti i sussurri dello splendore. Sì. Ma se riusciamo a prendere tutto qua, senza farci becchiare. Ok. Bene. Ok. Perfetto. 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 Quindi, in teoria, ora, dovrei andare. Che abilità. Uccidete! Uccidete! Uccidete i miei scredenti! Cosa? Non può essere. Sono ancora nascosto. Sono ancora nascosto. Lloro. Via, 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 via,, via. Via, 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 via vita. Perfetto. Ambiate quizza! Ok. Via, 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 via via chi si frega ok perfetto ce l'ho fatta ma non mi hanno scoperto per colpa loro giù di lì ok andiamo qua perfetto siamo dove dobbiamo essere salva backbay clef snuggle vai con clef snuggle adesso devo portare tutto da fredda andiamo 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 via dovrebbero anche ricomparirmi le mie companion tutte due tutte tre ce ne erano veramente tanti spero che non rimangano lì e che se ne vadano perché altrimenti quella zona lì è abbastanza flimita con lancia missili e tutto il resto insomma qualcosina di brigoso un attimo ok vediamo vediamo come mi prende qua mi prende vabbè si dai può andare può andare mi taglierà la testa ma chi se ne frega meno che ora non quando entriamo qua c'è un bel caricamento sempre perché è abbastanza pieno quindi andiamo a vedere come si è messe solo early va bene o solo early dalle altre ci guarderemo ok ok andiamo giù andiamo giù al club vai mamma mia che laghiate ragazzi da chi dovrei andare da fred là dentro perfetto questo penso sia stato messo dal da hookers of the commonwealth non so vediamo e parla non so vediamo I'm done with that Double your best dash Didn't make the deal But finally we have to wait I got to kill the booyer Is that all worked out in the end Here you go Didn't expect that answer I guess you were the right person for the job Here you go This is for you I'm done with that 700 perfetto oh dio perfetto poi questa hash pinball cos'è che mi ha aggiunto varie cos'è che mi ha chiave un pimp qualcosa materiali un pimp out qualcosa modifiche funzioni ora vediamo era un pimp out qualcosa vai a capire cosa mi ha aggiunto una foto metropolitana un autore del libro che hanno consegnato non sono from from powers ah si un nastro rispotto tabù il famo master più il pochett c'è schini non so cosa sia e dove la ciascchi saperlo probabilmente in giro qua le cose si possono prendere no? tranne alcune chiaramente o giriamo qua e controlliamo di trovare un pimp out chest che non stare bene eppure male fantastico becchi qua si si divertono un botto eh in questo in questo nightclub eh vengono dirette a new vegas direttamente è fantastico fantastico qua ragazzi Michael Vip VIP oh yeah vediamo qua c'è una marea di roba il resto è un cappello da capitano vede bene R costruzione sportivo costruzione anche un marone chiaro pulito altrimenti di qua abbiamo una marea di roba punto erano safe storage cabine stated safe storage cabine questa dovrebbe essere buono oh auto sell your stuff auto sell? beh vediamo cosa possiamo mettere qua allora Eden che cosa hai Eden? di buono? let's trade io sto proprio esplorando questa roba qua artigianale e pistola Fatme Fatme fucile? no, un Fatma c'è bene un Fatma c'è lo terreno poi questo è un cuoio la strada Edens niente un cuoio un tallo il soldatore peridone atomiche cosa ci conviene metterla a posto prima sale aperte torace in cuoio ovviamente prima di renderla ci conviene metterla a posto impreviste insomma un po' di roba emozioni ok eccessivamente ok è anche un berserz un altro tempo vediamo questo auto sell vediamo questo auto sell vediamo bene se è un auto sell dovrebbe auto vendere in un'acqua il progetto ci va a chiaccia il mio non fa sempre il 31 rompifiamma avanzato tattico avanzato questo no questo ci togliamo il rompifiamma restiamo braccia destra motore di combattimento perché è meglio del mio ma ce l'ha teniamo braccia destra in cuore, metallo, metodo, 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 braccia verde a diventare ce la teniamo una pucci ma questo bel casco di armature da combattimento è decisamente meglio del mio e me lo tengo da strada si vende destra in cuore il metallo e il silistro con la redone il metallo teniamoci quello in cuore, giacca di pelle jeans, però fortuna, quando ho ripulito una zana, è la prima volta che tento di fare una cosa simile, maschera anti gas, da saldatore, salo pet, torace armature da combattimento mentre io ho un...